E questa è la terza macchina che mi rubano, che poi fino a quando dicevi il professore tiene la Porsche Cayenne, tiene il BMW, la Maserati Gran Turismo, è normale, questi sono stati capaci di rubarmi il paddino della Fiat, quel per andare a fare gli olive, porca... Professor, professore, quindi queste cose succedono, perché non segue Nathan FG? Chi è Nathan FG? Ma che altro è sta cosa? Un altro tormentone, come Appagnagnà, la Palude, fai parte della Laguna? Ragazzi, mi piacere che oggi non è giornata di scherzare! Neh... Eh, professor, quante volte l'io dobbiamo dire che deve seguire Nathan FG? Deficientis, per piacere! Io non lo so, che altro deve succedere oggi? Che si spacca da se... Ah... 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 Sei l'unica capra che ancora non ha capito che mi deve seguire! Sei una maldita... Ah... Ah... Allora, penso che adesso hai capito che devi fare, no? Seguire Nathan FG... Ah... Eh, ma qua mi sa che non ti basta seguire solo Nathan FG, eh? Devi seguire pure le maleduclasse! Che se cosina così, fino a stasera, è capace che tua moglie ti mette pure le cor... Ma perché è pure il lampedario?